weee non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE DAIE bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono XIUDER e ragazzi quante novità anche oggi per quello che riguarda la nostra mappa e il nostro futuro su fortnite passano i giorni la season piano piano avanza anche perché non ce ne rendiamo conto con le settimane che passano non essendoci le sfide settimanali ma ragazzi non durerà molto questa season vi ricordo che già dai primi di ottobre guarderemo verso la season numero 11 e c'è da dire che ci stanno regalando veramente un sacco di modifiche e tantissime altre devono arrivare nel video di oggi infatti ragazzi parleremo proprio dell'argomento che non sono riuscito a farvi vedere ieri quello della neve che si sta sciogliendo con delle immagini interessantissime che finalmente potrebbero rivedere l'erba nel bioma del ghiaccio della neve che ha stufato veramente un sacco di persone ma attenzione perché siamo pronti per il nuovo ritorno di Kevin ci sono dei fatti che stanno accadendo proprio in queste ore e dovete guardare in alto vi farò vedere degli spezzoni che dimostrano quanto può tornare velocemente il nostro Kevin e arrivederci borgo bislacco o addio si ragazzi perché ci sono anche nel trailer degli elementi che ci fanno capire che borgo potrebbe sparire per sempre prima però voglio ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di qua ragazzi per supportarmi nello shop quando scioppazzate di prepotenza mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ce l'ho ce l'ho ieri ieri proprio fino qua ragazzi come sempre mi rispondete in tantissimi domandina di oggi domandina molto molto semplice qual è la tua modalità tempo limitata preferita non necessariamente da queste tre ma tra tutte quelle che abbiamo giocato anche perché ne stanno continuando ad inserire di nuove anche quelle che sono state giocate alle world cup qual è la tua preferita tra tutte quelle che hai giocato tra tutte quelle che ti ricordi la mia ragazzi per chi non lo sapesse è la 50 versus 50 mi piace veramente tantissimo bello le due fazioni che rimangono una contro l'altra spero che ritorni quanto prima e magari perché no che la lasciano permanentemente in game ma quindi ciao le bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere finalmente queste modifiche alla neve ne abbiamo parlato ieri qua stiamo vedendo picco polare una delle zone più colpite soprattutto dagli eventi della scorsa season ma la domanda che tutti ci poniamo è porca di quella porca e dalla season 7 che abbiamo la neve nella mappa c'è una mappa che anche un deserto non è umanamente possibile che ci sia la neve perenne beh ragazzi potrebbero esserci dei fatti che ci fanno capire che non rimarrà per molto ed è proprio il caso di queste immagini che voi vedete in una maniera spixelata esagerata ma che è fatta apposta perché è zoomata al massimo sulla mappa questa è un'immagine tre giorni fa che riprende uno degli alberi innevati e se andiamo a vedere ragazzi la dall'altra parte dove c'è lo stesso albero quella immagine è circa di 24 ore fa guardate come si nota che la parte alta della chioma sta diventando verde è un chiaro segno dello scioglimento della neve e non è l'unico segno perché se andiamo a picco polare e guardiamo nella minimappa dall'alto in questa immagine grande vediamo come ci sono le due parti di pietra con i due casolari ma se andiamo a vedere l'immagine più piccolina a destra come vedete c'è molto più di dettagliato e quindi la neve sta lentamente scendendo non si sa quando non si sa in quale season ma sappiamo che si sta sciogliendo e quindi speriamo il prima possibile di vederne molta molta meno e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento addio borgo bislacco si non è una stupidaggine ragazzi questa è un'immagine presa direttamente dal trailer ufficiale di epic e se guardate proprio dove c'è voi dovete guardare quest'immagine come se fosse sovrapposta a livelli ok la mappa è quella che sappiamo noi e la parte dove c'è il robot che si sta spingendo verso l'alto è stata inclinata in modo che combaciasse perfettamente con la mappa guardate dove c'è la freccia vedete salty springs che sarebbe borgo bislacco non c'è più c'è un lago ragazzi c'è un lago non sappiamo quando arriverà ma abbiamo un'altra immagine che ci fa capire che non rimarrà per molto ed è proprio un'immagine sempre presa dal trailer fate fatica a vederla perché c'è il mio logo davanti facciamo che togliamo per questo video il mio logo in modo che riusciate a capirlo meglio guardate ragazzi la in alto sempre immagini del trailer c'è proprio un rift esattamente uguale a quello che abbiamo visto a tilted e quindi che è cambiata in da neo pinnacoli a tilted town e se andiamo di nuovo a vedere esattamente nella location dove adesso c'è borgo bislacco un'altra immagine invece sulla destra più zoomata che ci fa vedere chiaramente come non c'è più borgo ma c'è un lago quindi ragazzi anche qua non sappiamo quando ma sappiamo che verrà modificato anche il nostro borgo bislacco e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento il rift nel cielo ne abbiamo già parlato in live nelle ore di ieri mattina sta cambiando tantissimo però qui ho uno spezzone da farvi vedere perché è veramente pazzesco quello che si è scoperto guardiamolo insieme e mentre lo guardiamo sentiamo e magari i più attenti di voi ricorderanno che questi rumori li abbiamo già sentiti in game sentite che roba ragazzi sentite che roba oltre ai suoni anche quelle colorazioni violace le abbiamo già viste ragazzi potrebbe essere seriamente il ritorno di kevin e avrebbe senso che tornasse il cubo in game in quanto stiamo vivendo in questa season 10 tutti i momenti più importanti della storyline di fortnite ragazzi per chi se lo fosse perso per chi non sa di cosa sto parlando successe questo nella season 4 dal cielo un fulmine nel rift dal rift creò sulla montagna a vicino palmetto paradisiaco dal nulla un cubo che per tutta una season andò in giro per la mappa e poi si abissò a quello che era loot lake una volta che era proprio un lago intero con una casa in mezzo trasformandolo per una settimana in un lago rimbalzante fu meraviglioso per poi invece modificarsi piano piano nel corso degli eventi in quello che sappiamo adesso la voragine che c'è a sponde del saccheggio non è altro che l'isola che si alzò verso il cielo con la casa e tutto arrivò in poche parole dal rift e da lui ragazzi da kevin quindi potremmo di nuovo assistere per un periodo limitato in questa season anche al ritorno di kevin a me un po manca non so se a voi manca ragazzi ma sebbene ci sia come si dice ci abbia un po stufato quando lo abbiamo vissuto rivederlo non sarebbe affatto male da ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao